qua e abbiamo la fionda c'è incredibile ok la luce ce l'abbiamo e questo è un bene non so leggere russa non abbiamo niente possiamo raccogliere solo le frecce cosa volevo accendere scusa dov'è che volevo accendere cosa no il nostro caricatore ce l'abbiamo il nostro orologio anche ci manca ovviamente il coso lo zaino possiamo raccoglierle va bene va bene mamma mia cos'è ok se non è possiamo fabbricarle le frecce se è così stonks cioè no aspetta mi sono perso di nuovo dobbiamo andare di qua vediamo se qua c'è qualcosa ok dove si va raga di qua ma non si rompe forse bisogna andare fuori di qua se dritti per dritti con la barca tutta distrutta di là belle le texture che non si caricavano di questo albero allora ah ok di qua ci saranno mostri nuovi visto che nel deserto c'erano mostri nuovi funghetto cosa è diventato fallout raga quindi adesso il gameplay cambia probabilmente vediamo se c'è qualcos'altro da prendere no qua ma è sembrato di sentire una voce forse erano solo mosche cos'è ah queste ah qua ci sono questi da aprire ok buono a sapersi ah no vedi che le munizioni me le danno ancora però non ho lo zaino no ok una maschera antigas un'altra maschera antigas dove devo andare ok devo andare ah si 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 c'erano voci c'erano voci ce l'ho sentiti questo oh madonna quanto ci mette però eh vabbè cosa si chiama frecette stanno ammazzando i nostri ragazzi ricarico eh perché cosa cambia ma cambia assolutamente niente fa vedere andiamo carica più veloce no si un pelo più veloce si dammi questa beh allora fammelo smontare hai a tua madre cielo no si è spostato bastardo ma allora sei stronzo eh ma porca che cazzo vieni qua ma porca puttana ma non è facile raga eh mirare con questo coso oh masuka dov'è 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 dai ma vieni qua eh eh erogne toh suca toh prendete tutto chi è chi è vado dove è l'altro dentro là vieni qua vieni qua bro vieni qua non ti faccio niente oh ma no ma mamma mia cioè mi attaccate poi ti arrendi ma ti pare chi è questo sono neanche dove sei ah lì si si vieni qua no no prende un pugno in faccia bro ecco così impari aspetta questo c'ha il mirino vai perfetto dove devo andare adesso di qua alla chiesa ok devo andare su beh possiamo anche spegnerla qua no suca e che cazzo prima mi sparono poi devo cioè no vabbè oh ma raga ma date un po' di fortuna a questo artium per favore no tanto uscivo lì giù guarda si rompe no cos'è sta roba no di nuovo gli orsi no di nuovo no di nuovo no però raga che bello che veramente c'è qualcosa qua è un po' di ok non si pone ancora giustamente quando avevo visto un altro cos'è quello no non lo voglio attaccare lui mi attacca io non lo attacco ma è giusto no 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 ma con solo un arco non penso proprio che tu mi ci fai combattere massimo scappo bro aia 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 beh non mi attaccano raga perché dovrei attaccarli vediamo cosa c'è qua sopra ok ah no per dormire no 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 sti cazzi vediamo qua cosa c'è è la madonna cosa è questo di diverso no è senza cosa no no sti cazzi ah va bene ah eccolo qua bro ah ecco che cazzo qua non c'è niente possiamo andare giù ok no eh vabbè che pale io non vi ho attaccato però mannaggia voi ah mi riprendo anche la freccia cioè scusate eh dico io non vi attacco non mi attaccate no babane ah che cazzo eh vedi che si incazza è il grande maestro qua questo dice ma sono lupi però questi non è che devono andare aia che cazzo che palle è da andare qua dite che riesco a uccidere un un uccellino che vola qua c'è qualcosa no vabbè andiamo dimmi che non devo mettermi la maschera ti prego se no la rompo subito oh spruzzano robe eh vabbè ovvio avevo saltato però dai viene qualcuno a salvarci la rete è mia perciò vaffanculo allora perché avete piazzato la trappola sul nostro territorio e poi avete già lo zaino di un intruso per prenderlo mi sono immerso tu ti sei tirato indietro ah è il mio zaino è il mio zaino ok voi siete pirati avete più barche e ha la mia arma credo siete tutti dei vigliacchi è un intruso un nemico sei forse un bandito cosa diceva il maestro diceva che dobbiamo essere diversi non te lo ricordi non è che ti starai montando la testa il maestro diceva che prima di tutto dobbiamo difenderci tutto il resto è venuto dopo hai dimenticato cosa facevano gli intrusi qui anche lui è uno di loro perciò deve morire altrimenti ne porterà qui altri non ti ho fatto niente io non ti ho fatto niente io bro godo dai poverino aspetta il mio zaino no uno aveva il mio zaino aspetta un attimo dov'è volato dov'è se l'è pappato ma avevano le mie armi no bro no dai ma no vabbè devo tornare indietro in che senso devo tornare indietro ah posso risalire strano eh no laga non posso risalire eh l'ho detto io dove vado mi dice di andare di là vabbè andiamo di là di qua però di qua è andato il mostro fammi vedere un attimo magari il corpo è qui da qualche parte boh come caricatore ah mi sta scaricando la non so se c'è qualcosa qua no eh boh forse qua dentro l'ha lasciata qua dentro la no no vabbè eh no ho sbagliato proviamo a guardare qua magari c'è qualcosa beh munizioni non fanno mai male qua c'è qualcos'altro basta tutto qua ok là c'è qualcuno però vado là dove mi porta là ok è un alleato o un nemico eh che cazzo ne sapevo guarda qua fermo e quindi adesso ho questa ma solo questa le armi non ce le ho e posso scegliere tra quelle incendiarie e quelle no ok e ora che cazzo vuoi che ti dica ah secondo te il padrone l'ha conciato per le teste il padrone avrà preso anche l'egino bisogna per l'accampamento noi siamo venuti qui ci è voluto bene e allora dobbiamo almeno recuperare i corti ci darebbero dei bigliacchi se non lo facessimo già diamoci da fare allora eh ma dimmi una cosa voi come avete fatto a non vedere il padrone sa muoversi in silenzio noi eravamo distratti Un altro intruso è finito nella trappola e Eugene si è entusiasmato e ha iniziato a chiedere tutto il bocchino, o almeno gli stivati. Un altro intruso. Strano che Olga non abbia detto niente e che non sia neanche venuta con noi. Allora, lui dov'è? È ancora qui da qualche parte se non l'ha preso il padrone. Ha maggior ragione, meglio sbrigarsi. Sì, diamoci una mossa. Spero di non doverlo avere più dettagli. Questo posto fa schifo. Dove sono andati? Oh, muori! Ah, cazzo, si era reso. Eh, vabbè, oh. Sti cazzi, cioè, nel senso... Aspetta. Cosa ha questa? No, no, che brutto, no, no. Ok. Ce n'è un altro qua? Vabbè. Sti cazzi, raga, cioè, nel senso... Questo è scelto da qua, ecco. Vediamo cosa c'è qua sopra. Quindi adesso siamo in un villaggio con, non lo so, una tribù. Da qua magari posso vedere robe? Ah no, posso andare qui? Ok, oppure... Da nessun'altra parte, ok, ok, andiamo qua allora. Ok. Ah, guarda là. Ho visto uno. Dov'è? Vabbè, vado sopra, dai. Aspetta, è uno quello? Oh, madonna. Raga, ma i coltelli, i coltelli, raga, i coltelli. Perché? Perché fanno così schifo i coltelli? Oh, questa mi piace. Questa mi piace. No, ma sei scemo. Ma che ne so. Eh vabbè, li ammazzo da qua. Ma cosa sto sparando? Ma no, voglio... Madonna santissima, come cazzo si... Ovviamente non arriverà mai. Sì, vabbè, raga, ma... Eh... Ok. Aia! Da dove cazzo? Sì, vabbè, ragazzi, sono incredibili. Adesso vado dall'altra parte del mondo. Voglio vedere se mi vedono. Esiste? Calma. Vai con calma. Tanto non sanno che sei qua. Ah, ma vaffanculo. Aspetta. Ah, ma li hanno perso di vista. Dove? Eh, vabbè, raga, ma è incredibile. Do cazzo mi... Ah, là. Porca puttana, oh. Eh, vabbè, sti cazzi. Allora vi vengo addosso. Cioè, cosa volete che vi dico? Aia! Quanti sono, raga? Eh, vabbè, ora va. E' mona, va. Aia! Cazzo, si muovono tantissimo questi, raga. Vabbè, raga, ma è incredibile la sfiga che c'ho, però. Devo crearmi un paio di robe. No. Ok. Oh, è incredibile. Devo pusharli per forza, sennò... Ciao. Dammi una pistola anche, grazie. Vediamo se c'è qualcosa da prendere qua. Ah, vabbè, sti cazzi. Come solo un'arma posso prendere? Oh, 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 oh. Ah, devo tenere premuto per questo, ok. Non la prendo da sola, ok, ok, ok. No, mi ero spaventato, raga. Vabbè, raga, sono stupido io, allora, cioè. Altri? Dove è andato? Non c'è di combattere, ragazzi! Morirete tutti se non lo fate! Questo intruso non è un bandito! Non uccide chi è disarmato! Non posso farci niente! Dove devo andare? L'intruso è qui! Prendetelo, prendetelo, ragazzi! Ma, 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 ma mi ha detto che no! Mi arrendo! Dove devo andare? Di qua? È finita! Hai vinto, straniero! Cosa c'è qua? Ah, vabbè. Levati, però! Non posso passare, se no. Mamma mia, che palle, questi! Ma, mi dice di andare qua? Di andare qui? No? Devo andare sotto, forse? O sopra? Aspetta, forse devo andare sopra? Visto che è il capo, magari sta sopra? Qua? 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 Ok. No. Ma mi hanno sparato loro per prima? Ma, 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 ma sono seri? Mamma mia, che pianta grane! Eh, la madonna! C'ho altre robe da... Eh, vabbè. No, silenziatore. No, silenziatore. Ok. Pulisci. Quello che gli ho preso. Ok. Laser rosso, no. Va bene. Ehm, maschera intatta. Questa l'ho pulita. Qua ho tutto. Non posso farmi niente. Aspetta, smonto precisione. Smonto, non lo so, pallettoni. Non ho più le mie munizioni. Posso farmi un'altra? Dieci costano. No, va bene. Ok. Ma va a cagare, va. Dice che devo... T'ho detto di no. Oh, madonna santa. Ah, ha rotto i coglioni questo, eh. Di qua. Dai, vai. Ok, grazie. Di qua. E poi di qua. Ok. Oh, mi hanno sparato. Io ho risposto col fuoco. Cioè, nel senso, adesso... Eh. Scusa, un attimo. Come se la colpa fosse mia. Scusa, eh. Ti può liberare, eh? No. Un corvo. Ok. No. Sento strani rumori. Eh. È l'urso Bruno. Che cazzo? Cazzo era? Un'esca? Ah, vabbè, sì, sì. Ah, questi. Che palle. Che cosa è successo? Che posto di merda. Cos'è quella cosa era? Devo fare stealth, eh? Stealth? Guarda che mi prendono adesso. No. Oh, madonna. Dove vado? Dove vado? Ah, qua, qua. Ok. Ma, cioè, è incredibile, ha sparato. Ah, posso liberarli, magari posso... Oddio, guarda chi c'è. Dopo posso liberarli, no? Oh, ma... Sì, vabbè, sono incredibili. Loro mi hanno visto. Guarda quanti sono. Vabbè, raga, ma comunque l'hitbox è difficilissima. Cioè, ok, quello l'ho beccato. Si spostano nel momento più incredibile. Sono incredibili. Dai. Vieni fuori. Vabbè, ovvio, ovvio, ovvio che non l'ho beccato. Che palle. Devo sparare più in alto. Eh, vabbè. No, prima si... Vabbè. Sto finendo tutte le munizioni, bro. Dai, vieni fuori. Ma? Adesso mi... Dov'è? Eccolo qua. Gli altri? Ok, là. Dai, riaffacciati. Oh. Oh. Porca puttana. Non posso fare più frecce. Ma quanti cazzo sono? No. Basta. Cosa posso smontare? Smonto questa. Smonta. Vabbè, dai, oh. Ce la faremo. Questa è dell'altra, giusto? Vabbè, fanculo. Adesso non ce l'ho. Ma sono infiniti. Quello sta là e non lo vedremo mai. Altri? Cazzo. Si vede appena appena... Non penso che lo beccherò. Cosa c'è là in alto, gente? Ecco, ho fatto fuori uno dei nostri! E qua non si va. Eh, quello è là. Non posso becarlo. Muoio? No. Devo prendermi tutte le munizioni. Ho finito tutto, raga. Ho finito tutto. 14. Aspetta. No. Qua hanno ucciso uno, no? Sì. Riprendiamoci la cosa. Qua c'è qualcosa. No, no, no. Andiamo qua, qua, qua. L'ho visto il laser, eh. Ok. Che ormai? Ok, grazie. Sì, eh. Vedete qualcosa, ragazzi? Oh. Mi sa che c'è qualche stronzo nascosto nel ca. Su, ca. Qua c'è che ne abbiamo abbastanza per farci altre frecce. Ok. Voglio liberare, ma devo ucciderli tutti. Suka. Chi è? Ah, quelli di prima. Aspetta, com'è? Devo... Guardate qua. Qualcuno mi aiuti! Io, io, io ti aiuto. Magari faccio pace con i bro. Allora, non sei uno di loro. Capisco. Grazie. Per averci salvati. Prego. Un straniero. Grazie. Ah, cazzo. Diabolo siamo a... Ok, allora, devo andare di là. Boh. Ok. Di qua. Di qua. Ok, eccomi qua. Eeeh! Bro? Oh, ah, devo scendere da... Come faccio? Madonna. Ah, devo andare giù di là. Oh, c'è un modo per salire là. No, perché magari non ho visto una scala, mi sono perso. Forse qua? No, non credo. No, ok. Qua, se scendo, sono morto. Sì. Penso che devo scendere, raga. O c'è una fune che mi porta là, ma non vedo niente. No, devo scendere. Ok. Allora scendiamo. Mi prendo anche le munizioni qua. Grazie. Ok, andiamo. Penso sia di qua. Sì. Qua c'è una nave. Dice, andare di qua. Ma qua non so come arrivarci. E di qua non si passa? Oh, sì. Perché non te le spiega le cose, sto gioco. Ah no, ma c'è il muro. Ma scusa, eh. Come ci arrivo, raga? Eh, non ci arrivo da qua. Fammi vedere. Dove devo andare? Ah, di qua. Aspetta. Sì, raga. Di qua. Ma qua non c'è niente. Cioè, c'è una scala, ma... Non so come fare, raga. Devo sparare a quello? No. E' tirata sulla scala. Non saprei come fare. Vi giuro. Sono un po'... O prendo una corda, oppure faccio il giro di là. Faccio il giro lungo, ok. Faccio il giro lungo. Penso che qua si possa andare. Ok, sono qua sopra. Ci sono. Devo andare di là? Ma voglio provare ad andare di qua, raga. Vediamo cosa c'è. Ah, munizia. Ok. Anche qua. E basta. Boh. Magari ci potesse fare la scetta. La scetta. Vediamo. Ok. Di qua si andava. Infatti, ok. Ah, mi sembrava che ci fosse qualcuno. Ok, hanno fatto la guerra qua. Oh, madonna. L'ho sentito, l'ho sentito, eh. L'ho sentito. No, dai. Non ho armi. Dimmi che non è cattivo. Ma se io non volessi ucciderlo. Oh. Dai, fai un saltino di qua. Che poi vado sulla scala. No, sono mortissimo. Che cazzo. Spero che valga qualcosa, se non l'ho ammazzato. Porca puttana. Come sta andando? Là? No, c'è qualcosa là. Ti prego. No, non si può andare. Ok. Ok. Che bella la luna, raga. Veramente bella la luna, raga. Bellissima. Ok. Dovrei essere al sicuro qua, spero. Qua c'è un... Cosa da tavolo? Un tavolo da lavoro. Ah, ok. Serve benzina. Perfetto. Qua si può dormire? No. Pensavo. E qua cosa c'è? Vabbè, qua c'è una registrazione che non va. Perché giustamente qua... Ok. Vediamo cosa posso farmi. No, questo vabbè, finché... No, questo fucile da precisione. Non ce l'ho io. Pallettoni non mi servono. Non ho il pompa. Questi mi ritengo in caso. Mi servono... Sì. No, questi no. Ah, il massimo. Vabbè, questi non mi servono finché non ho le mie armi, no? Vabbè, stesso. Teniamoci. Ok. Medikit. Cioè, gli ho al massimo. Basta. Pulliamo qua. No, bagliato. Pulliamo qua. Posto. A postissimo, raga. Perfetto. Andiamo avanti. Fermo, straniero. Ma guarda chi si rivede. Anche se scommetto che non ricordi chi ti ha trascinato fuori dall'acqua. Comunque mi chiamo Olga. Sei tu a combattere contro il padrone della foresta? Grandioso. Da anni i nostri cacciatori si tenevano alla larga da lui. Merda. Scusa, maestro. La serratura è arrugginita. Maestro. Il tuo amico Aliosha è già alla diga. Ha detto che il vostro colonnello non aspetterà, quindi non c'è molto tempo. Olga. Purtroppo non ti posso accompagnare. Alla riunione del consiglio di oggi, i pirati hanno proposto di attaccare il vostro treno. Ma non avrebbero dovuto farlo. Munizione. Come sempre, mi tocca andare a sistemare le cose. Ma ho qualche minuto per darti qualche consiglio. Va bene, ragazzi. Sfattaggio in corso. Ok, io vi saluto con Olga. Ciao, Olga. E ci sentiamo al prossimo episodio. Eeeh, che cavolo vuole fare? Niente, continuo a parlare. Pirati hanno tutte le barche all'accampamento alla palude. Non amano condividere le loro cose, ma non c'è motivo di attaccarli. Meglio evitare inutili spargimenti di sangue, quindi non farti vedere. Ok. Prendi la strada che porta alla barricata, scendi alla palude e cerca il puntile. È lì che io e Alyosha abbiamo preso la barca. Maestro, perdonami. Ce ne sono un po'. Fa' attenzione. Beh, straniero. Abbi cura di te. E non farmi pentire di avervi aiutato. Salutami Alyosha. Io rimango ancora un po' a vegliare sulla tomba del maestro. Va bene. Niente, raga. Ce si becca alla prossima. Bella. Abbiamo conosciuto Olga. Gran fica.